Sì, 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 ho capito. Quindi non escono fuori le Lemonade o escono... No, escono fuori, ma là in mezzo e non c'è la fastidio, in teoria. Ok. Ok. Sì, sì, infatti. Vabbè, invece gioco subito il corno su sta prova. Sì, 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 sì. Adesso no C4% 5 Vai 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 Vabbè questo qua fatto così E tempo risparmiavo si chiama Si C4% 5